Buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Jed, benvenuto. Pane al pane! Ho detto Jed? Eh vabbè, scusate, ogni tanto sbaglio nelle trasmissioni. Abbiamo fatto qualche puntata, no? Che era un mix Jed e pane al pane, quindi insomma. Esatto, beh, per fortuna l'anaticitura sua è quella giusta, pane al pane, ok? Ricominciamo, benvenuti a pane al pane e benvenuto Joelen Magaldi, che ricordo è il Presidente del Movimento Roosevelt e il Gran Maestro del Grande Oriente Democratico. Buongiorno Joele. Buongiorno a te Roberto e salve a tutti, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di una persona che sembra scomparsa ultimamente dai radar, così, delle cronache nazionali e anche delle notizie, dalle prime pagine dei giornali, che sono ovviamente concentrate sull'Ucraina. È diventato un po' un oggetto stealth, tanto per usare un termine che adesso va di moda, vista la guerra. È Mario Draghi, che sembra un po' in secondo piano in tutte le vicende, sia interna in questo momento, ma soprattutto internazionali. Joele, dove è finito Mario Draghi? Ma il problema è che quando inizi a fare errori, gli errori si accavallano e ne fai sempre di nuovi ed è difficile ritrovare il bando della matassa, così come quando invece si azzeccano le mosse, poi è più facile sull'onda del successo e proseguire in ascesa. La verità è che Mario Draghi ha sbagliato tutto lo sbagliabile nell'anno in cui è stato presidente del Consiglio, ha compromesso gravemente quella che era una possibilità percepita come oggettiva e quasi trionfalistica di accedere alla Presidenza della Repubblica dove avrebbe potuto, nell'arco di sette anni, giocare, se erano sincere le sue intenzioni, giocare un ruolo molto importante, duraturo, strutturale per l'Italia, per l'Europa. Si è trovato quindi a sbagliare molte mosse, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, magari ne riparleremo oggi con ancora più precisione e sempre più a consuntivo, ha sbagliato molte mosse come presidente del Consiglio, ha soprattutto, possiamo dirlo sinteticamente, ha pensato di barcamenarsi tra ambienti massonici progressisti e neo-aristocratici cercando di, continuando a giurare di essere votato ad una causa progressista, nuova, social-liberale, neo-keinesiana, scusate, post-keinesiana, rosveltiana e quindi di volere effettivamente dall'Italia promuovere una trasformazione della disunione europea in qualcosa d'altro, nel guadagnare per l'Italia e per l'Europa delle modalità nuove in termini di macroeconomia e in termini di ruolo anche dello Stato. Ha continuato a giurare questo, ma ha continuato a dire che si doveva barcamenare e che questa fase si sarebbe realizzata dopo e che doveva barcamenarsi per non dare l'impressione ai neo-aristocratici di essere passato arbi e bagagli appunto ai progressisti. E questo in realtà ha prodotto una situazione paradossale, per cui alla fine arrivando nell'imminenza delle elezioni per il criminale, i circuiti massonici e aristocratici erano certi di non volerlo al criminale perché erano comunque insospettiti, per quanto si sia barcamenato, non abbia fatto nulla di eccelso proprio per non dare la certezza, diceva lui, di aver cambiato casacca e ha creato comunque dei sospetti. E nell'ambito dei progressisti, ovviamente sto semplificando, queste fazioni non esistono in questi termini così manichei e dicotomici, ma insomma per lo più è una semplificazione fededegna, benché ci siano molte zone grigie. Insomma alla fine anche i progressisti o comunque quelli che avevano deciso di investire su di lui in una chiave nuova, alcuni di noi non l'hanno voluto, non hanno appoggiato. In più, in questo anno ha fatto di tutto per non creare un filo diretto con i parlamentari anzitutto e con anche le segreterie politiche, cioè l'atteggiamento altezzoso, poco dialogico, talvolta sprezzante, deludente per molti aspetti, consumato in consiglio dei ministri, l'ha reso, come dire, un candidato poco appetibile per molti. Naturalmente, e l'abbiamo spiegato in tutto questo, se comunque Mattarella non avesse recitato il suo teatro fingendo di non voler essere rieletto e poi in realtà brigando per la sua rielezione e non si fosse reso disponibile, forse alla fine comunque per stanchezza la candidatura di Mario Draghi sarebbe rispuntata fuori, ma non aver previsto i fattori che hanno spinto altri a puntare su Mattarella e che hanno spinto appunto soprattutto a non volere Draghi, questo è stato il suo grande errore. Ora, pochi giorni fa, in questo secondo tempo nel quale naturalmente non tutto è perduto per Draghi, ma molto è compromesso, gli è stata fornita un'occasione formidabile di rientrare sulla scena nazionale e internazionale soprattutto con una grande funzione e un nuovo grande prestigio perché è ovvio che qui il futuro di Draghi, come Presidente del Consiglio, significa e non potendo accedere alla Presidenza della Repubblica, non si sa per quanto, dovrebbe essere quello di giocare una grande partita in Europa e nel mondo per conto dell'Italia e di concerto con le altre nazioni democratiche. Ma l'assist gli è arrivato niente di meno che è dal fratello Vladimir Putin. Putin, poco prima che tutto precipitasse, ha dato un messaggio chiaro, ha detto io per trattare voglio Mario Draghi. Perché? Perché il comune vincolo massonico, la comune cifra massonica, la stima che Putin ha di Draghi come persona comunque come dire capace di serietà e concretezza, è in grado di rappresentare ambienti tanto europei che americani. Quindi sono pochi i leader europei che rappresentano nel contempo questi due ambienti che sono diversi, diversificati. Naturalmente esistono molti ambienti europei e molti ambienti statunitensi, non esistono gli Stati Uniti d'America, non esiste l'Europa e non esiste nemmeno la Germania, l'Italia, la Francia, la Spagna. Ci sono dei circuiti trasversali. Ma Draghi rappresenta e rappresentava e forse continuerà a rappresentare il crocevia di molti di questi circuiti. E quindi Putin sapeva che trattando con lui e anche per la comune partecipazione e conoscenza di determinati ambienti massonici, poteva non perdere tempo. Non si fida Putin di Macron, che sa essere certo, è il presidente pro-tempore della Francia, forse avrà anche rieletto, ma sa bene che ci sono altri burattinai che sostengono il portavoce Macron e sa Putin che Macron non rappresenta affatto determinati ambienti statunitensi. Gioca una partita per sé e per alcuni altri. E nessun altro leader europeo quindi era in grado di parlare a Putin come plenipotenziario e rappresentante di tante reti. Draghi avrebbe dovuto accettare di gran carriera questo assist, giocandoselo come? Giocandoselo in questi termini, due punti. Draghi avrebbe dovuto dire, benissimo, io intanto non accetto le sanzioni, come Italia noi non faremo sanzioni alla Russia, questo come viatico di buona volontà, ma soprattutto, come ho spiegato in altre occasioni, perché le sanzioni non sono un deterrente per impedire l'azione militare di aggressione della Russia e sono un blando deterrente per i cosiddetti oligarchi e per Putin, che naturalmente sta già lavorando alacremente sul fronte orientale, con la Cina in primo luogo, per creare addirittura nuove infrastrutture finanziarie, nuove direzioni commerciali, che peraltro, voglio dire, anche questo è parte di un piano di Putin che aveva calcolato queste mosse dell'Occidente, ma su questo torneremo magari in un'altra occasione. Voglio dire che Draghi poteva presentarsi con un duplice biglietto da visita, uno di offerta a Putin, cioè di non giocare a questo gioco irrisorio del tu invadi e io appunto la butto su queste sanzioni economiche che creano problemi per i cittadini russi e per i cittadini italiani e per chiunque si trovi da una parte all'altra, della linea delle sanzioni. Però vengo, avrebbe dovuto dire Draghi, se tu sospendi immediatamente i bombardamenti, quindi fai una vera tregua e soprattutto avrebbe dovuto presentarsi dicendo io sono come Italia, chiederò in ogni caso che se non troviamo un accordo nelle trattative serrate che faremo e io te le vengo a fare appunto con un ramoscello d'ulivo perché non ti porto le sanzioni come Italia e anzi mi batto perché le sanzioni non ci siano, però se tu non accetti un compromesso, una soluzione diplomatica a seguito dei colloqui con me e poi con tutti gli altri che dovremo coinvolgere, mi batterò perché la Nato intervenga sulle frontiere ucraine. Ecco, una posizione di questo tipo, quindi triplicemente accompagnata da rifiuto di combinare sanzioni e quindi mano tesa amichevole alla Russia, oltre che diciamo un favore anche all'Italia e un favore a tutti quelli che avessero riflettuto meglio sul costo per i cittadini comuni e per molti imprenditori delle sanzioni. Una richiesta, come dire, determinata di sospendere i bombardamenti e però anche sul piatto della bilancia non andare lì come un profeta disarmato che ciancia di fronte a chi comunque ha l'opzione di andare avanti in termini militari e presentarsi al tavolo dicendo però attenzione perché io mi batto contemporaneamente se da qui non esce un accordo sarò per un intervento della Nato difensivo. Questa cosa avrebbe credo rilanciato Draghi a livello internazionale, avrebbe dato un grande prestigio a livello nazionale, avrebbe messo in condizione Draghi probabilmente di riprendersi tutto quello che ha perso in questo ultimo anno. E invece cosa ha fatto Draghi? Si è ammostrato di non avere la stoffa del grande statista, ha mostrato di essere stato un alto burocrate, di riuscire ai livelli in cui lo è stato e facendo peraltro cose ahimè negative. Tutto il Draghi positivo è ancora era e forse è nelle intenzioni futuribili mentre ci sono molti molti anni, decenni di lavoro ai vertici italiani, europei e internazionali delle strutture neo-aristocratiche e neoliberiste e quindi invece con questa mossa dopo l'anno grigio avrebbe potuto recuperare smalto e slancio ha scelto invece di mettersi a brigare con i partiti sulla questione del catastro, gestita male anche quella perché insomma è vero, ha detto, ha promesso Draghi che non ci sarà un aumento di tasse ma insomma è chiaro che la riforma del catastro in questo momento è una cosa inopportuna a livello simbolico perché comunque prelude ad una rivisitazione dei prelievi, cioè delle tasse sugli immobili è evidente che crea questa questa aspettativa, giusto o sbagliata che sia ci sono tante di quelle cose da fare, d'accordo, c'è una razionalizzazione da fare ma insomma poteva lasciar perdere l'archetipo virginiano della riorganizzazione in essenziale ad ogni costo e concentrarsi sulle cose importanti. Ha scelto di fare il conformista che sta lì insieme agli altri in una posizione che non distingue l'Italia e la sua personale da quella degli altri leader anzi, mentre Macron in modo anche comico e patetico fa appunto molte telefonate alla settimana in feconde con Putin, si atteggia Novello Zelensky, va in giro con le felpe, con la barba lunga e oggi anch'io ho voluto avere la barba lunga per come dire fare il verso a Macron, ma forse più simbolicamente... Ma io ce l'ho da sempre quindi... No no, la barba un po' così, è una barba di due giorni perché insomma adesso poi oggi dopo un po' di corsa di allenamento me la faccio volentieri, ma volevo arrivare a questa puntata con una barba un po' lunga quasi a simboleggiare la trasandatezza della condotta politica di Mario Draghi che ha perso la bussola, ha perso la bussola e come dire adesso si parla di un suo viaggio negli Stati Uniti per come dire ridare un po' di smalto, ma non è queste sono cose inessenziali, oggi in Europa non è ristabilire, ribadire la vicinanza all'alleato americano va bene, ma non è essenziale, oggi bisogna essere capaci di mediazione e tanto più è capace di mediazione chi effettivamente è vicino agli Stati Uniti, chi in Europa non è un europeo, un europeista anti-americano, ma è uno di provata militanza euro-atlantica, no? Cioè io stesso posso dire dal mio punto d'osservazione che mi sono permesso e mi permetto di fare molte critiche al mondo occidentale, agli americani, agli europei eccetera, ma la mia collocazione ferma e precisa nell'alba euro-atlantico è difficile da mettere in discussione e così come quando auspico per la questione israeliano-palestinese è una soluzione che veda due stati entrambi democratici, quindi il problema non si pone per Israele che è uno Stato democratico e liberale ancorché con alcune anomalie, si pone per evidentemente il futuro Stato palestinese che avrà qualche problema a costituirsi in termini democratici e laici vista la presenza di alcuni gruppi e soggetti, però voglio dire io sono un filo israeliano convinto e quando propongo due stati non posso essere sospettato di nessun atteggiamento subdolamente contro, perché ritengo che la nascita, il consolidamento, l'esistenza di Israele sia una garanzia dopo secoli e millenni che appunto per ogni ebreo nel mondo di sentirsi più tutelato e protetto, per migliaia di anni gli ebrei sono stati alla mercè di qualunque persecuzione, di qualunque discriminazione, di qualunque massacro, l'esistenza di Israele e dei suoi efficienti servizi di intelligence rende meno facile scatenare sugli ebrei le vigliacche persecuzioni e massacri che si sono consumati nei secoli. Chiusa la parentesi che apparentemente non c'entrava, ma c'entra sempre perché è proprio questo il punto, i negoziatori più credibili sono quelli che hanno come dire le reti di amicizia e relazioni più ampie, più trasversali e che vedono le cose da un punto di vista alto, con una lungimiranza, una profondità. Se dobbiamo piegarci nei momenti bui a fare la propaganda, insomma andiamo davvero tutti quanti nel pallone. Tra l'altro io trovo molto grave, veramente molto grave questa storia per cui, insomma, adesso è stato molto coraggioso, vorrei lodare, vorrei lodare ovviamente quella giornalista russa che in queste ore sta destando scalpore, no? Per il suo atto coraggioso di aver esibito un cartellone in cui dava la colpa a Putin di quello che sta accadendo, eccetera. Tutto bene e fanno bene anche alcuni, sento che alcuni chiedono a gran voce che questa persona non sia scarcerata, sia rimessa al lavoro, ma è giusto, nel senso che il dissenso depresso da Putin è uno dei segnali, il dissenso depresso e anche i molti morti uccisi sono un segnale di un regime e di un metodo illiberale, liberticida. Ma torno a ripetere, a quanto pare in tempo di guerra le società sedicenti, democratici e liberali, dimenticano il nome della verità che pensano di possedere, dimenticano che la verità che uno può possedere è perché ha un metodo democratico e liberale che contrappone al metodo altrui. Ma aver censurato le fonti di informazioni russe, propagandistiche, in modo più spudorato naturalmente che quelle medie occidentali, che pure fanno propaganda e sempre meno informazione, censurare la voce del nemico non è un atto liberale. Il metodo liberale prevede che tu lasci parlare la voce del nemico, la propaganda del nemico e naturalmente la demistifichi. Magari ci fai ironia, ci fai satira. Non c'è bisogno di scomodare una falsa citazione, una citazione falsamente attribuita a Voltaire, no? Si dice spesso attribuendola a Voltaire, ma non è nei suoi scritti, no? La frase detesto ciò che dici ma mi batterò fino alla morte perché tu possa dirlo. Non è una frase, una citazione letterale da Voltaire. È sicuramente un qualcosa che si può trarre dallo spirito diciamo del suo ultimo pensiero, dei suoi scritti ultimi e forse diciamo della fase in cui si fa più forte anche la cifra massonica di Voltaire che venne iniziato una prima volta in Inghilterra e poi venne iniziato poco prima di morire anche nella loggia delle nuove sorelle nel 1778. Però fa parte dello spirito volterriano, dei volterriani, cioè di quella idea di tolleranza liberale che non ha paura del dissenso, no? Cioè quando noi, siccome riteniamo, quando qualcuno nelle democrazioni occidentali ritenga che siccome c'è da fare una pedagogia per ragioni sanitarie, per ragioni belliche, per ragioni di benessere economico, in nome di questa pedagogia sostituisce all'informazione appunto una sorta di propaganda e di ammaestramento quasi sacerdotale e vuole espungere, non vuole sentire le voci scomode, fossero anche voci sgangherate, fossero anche voci in mala fede. Le voci del dissenso sono preziose proprio in una civiltà liberale, tanto più in una civiltà liberale e la cifra, la differenza è proprio quella che mentre in una civiltà liberale il nemico, l'antagonista viene lasciato parlare, ancorché poi confutato, nelle società illiberali qualunque voce diversa da quella, come dire, maggioritaria al potere viene fatta tacere. Ma questo senso è interessante vedere personaggi pure innocui e voglio dire anche così apparentemente ridanciani e simpatici, che ne so, un David Parenzo che io lo trovo anche un personaggio simpatico, una volta mi feci una chiacchierata telefonica con lui che si congratulava per il libro Massoni tanti anni fa, volevamo organizzare una presentazione, non ho avuto modo mai di incontrarlo, ma ci ho interloquito anche alla Zanzara insieme a Cruciani in diverse puntate. Eppure Parenzo oggi sembra una trottola che va lì negli studi televisivi, come altri, a dire che in nome della superiorità liberale bisogna, come dire, censurare chi liberale non è. È stato spassoso lo scambio di battute nella più totale incommunicabilità l'altro giorno con Franco Cardini e Mirta Merlino. Cioè, Cardini, che non mi sento particolarmente vicino alle radici del pensiero di Cardini, che viene da una tradizione diversa dalla mia, che probabilmente ha simpatie filoputignane che io non ho e probabilmente ha, diciamo, pulsioni anti-americane che io non ho, anzi, io ho pulsioni filo-americane. E tuttavia Cardini stava spiegando, voleva spiegare, che non si può censurare Sputnik Russia Today e poi lamentarsi per la censura altrui e che non esiste il modello democratico puro, bello e buono da una parte e dall'altra le dittatori e le autocrazie. Ci sono molte linee grigie e in Occidente queste linee grigie sono state, come dire, particolarmente vive, vivide negli ultimi anni, sul piano, su tanti piani. Siamo sempre meno certi di vivere in democrazie liberali. Chiuso tutta questa digressione per tornare a Draghi. Draghi è stato complice di questa corrosione della democrazia liberale perché non possiamo dimenticare appunto che si è fatto complice di quell'atteggiamento terroristico, dispotico, coercitivo che promana dall'ambiente intorno appunto al ministro della Sanità Speranza e i suoi addentellati, con quel malnato consigliere di Ricciardi, un personaggio che, voglio dire, si parla molto della viscomica, del retaggio comico di Zeleschi, ma che appartiene appunto al suo passato, mentre il presente di Ricciardi è sempre quello di quando faceva l'attore, un attore di scarso talento, ma in un mondo di, con un palato poco raffinato, no? Di utenti resitali dall'abbrutimento dell'appunto della cattiva metodologia democratica, è chiaro che anche un Ricciardi ha il suo posto. Ecco, Draghi era atteso, non se ne è reso conto, quanta grande attesa, anche grazie alle nostre narrazioni, quale attesa si era creata per un Draghi difensore dalle coercizioni del governo Conte II, un Draghi che avesse detto con aria autorevole e paterna, invece di andare a dire stronzate del tipo, se non vi vaccinate morirete e se non costringiamo col Green Pass, allora non si può. Io credo a consultivo che possiamo dire che i vaccini siano stati efficaci al netto dei costi, dei casi in cui o non hanno funzionato del tutto bene o hanno creato dei fastidi, ma questa sarebbe stato tanto più bello poterlo celebrare in un paese senza conflitto sociale, dove la proposta dai vertici dello Stato fosse stata quella di dire, cari cittadini, voi siete adulti, siete in grado, così come siete in grado di firmare una liberatoria per dire che vi volete, siete consapevoli dei rischi e dei benefici del vaccino, questo vi hanno fatto firmare quando vi vaccinate, quindi siete liberi, decidete se vaccinarvi. Noi però vi consigliamo, al lume di questi pareri scientifici e di queste cose, di vaccinarvi perché vaccinarvi ci consentirà di arginare meglio, non di sconfiggere il contagio, ma di arginare l'aggravamento, la letalità, un discorso pacato, un discorso lungimirante, un discorso paterno, un discorso empatico, e invece no, abbiamo creato appunto un clima di guerra con naturalmente tutto il folclore novax che si è scatenato, ma anche qualche legittima protesta invece freevax, quando le due posizioni non coincidevano. Tutti i liberali si sono fatti posti delle domande e tanti si sono scoperti solo sedicenti liberali e io non credo che i risultati sarebbero stati molto diversi perché alla fine insomma chi si è voluto, quelli che si sono piegati non sono stati tantissimi, quelli che si sono vaccinati si sono vaccinati perché volevano vaccinarsi e quelli che non volevano vaccinarsi non si sono vaccinati e quindi alla fine abbiamo creato un clima appunto di disagio sociale. Questo ha portato a una prima delusione su Draghi, ma poi non è questo perché quell'elettorato probabilmente in gran parte novax forse non aveva simpatie comunque per Draghi, ha avuto una conferma. La verità è che la gran parte dell'elettorato che aspettava Draghi, un Draghi Assolutivo, si attendeva un atteggiamento diverso rispetto ai bonus edilizi che sono stati resi, io ne parlavo anche ieri con una persona cara, che insomma trovandosi a lavorare in quel campo, l'aggravamento di richieste burocratiche ha reso per molti gravoso la realizzazione di cose per cui ci sono magari fatti investimenti, ci sono cambiate vite. Tutta sta storia anche che è venuta fuori con numeri statosferici, pare che la corruzione in Italia è scoppiata grazie ai bonus edilizi, allora non li facevate insomma, ma poi questi numeri che nessuno controlla come anche per i numeri utilizzati durante la pandemia, io ho sentito cifre enormi di truffe allo Stato, io non ci credo. Gioele ne è giusto, cioè c'è sempre il pericolo della corruzione, allora per evitare la corruzione chiudiamo tutto, chiudiamo tutti i nannicantieri, chiudiamo le fabbriche perché tanto sono luoghi di nannicanti e andiamo in una bella Arcadia. Ma anche questa storia, questo atteggiamento di Draghi che è pedissequamente ispirato da uno dei suoi yes man, che francamente è un altro personaggio grigio, che più grigio non si può come il ministro dell'economia, Franco, insomma è da fonti della Guardia di Finanza, ma non lo so poi se è della Guardia di Finanza, quali, come e dove, grande truffa anni dello Stato a causa dei bonus. L'unico volano che l'Italia ha avuto, adesso con molte lacrime da parte di molti, è stato quello lì perché nel frattempo Draghi non si è inventato, il governo Draghi non si è saputo inventare altre cose importanti per rilanciare il sistema economico italiano e sì che di cose ce ne sarebbero, ce ne sarebbero state e ce ne sarebbero. Quindi voglio dire che fine ha fatto Draghi? Sta finendo un errore dopo l'altro nel cestino della storia. Io che appunto naturalmente non ho mai creduto perché io non credo, la categoria del credere non mi appartiene, io qualche volta confido che è una cosa diversa, ma in questo caso non era nemmeno un confidare, non era un credere, io ho raccontato onestamente alla pubblica opinione di quelle che sono state le mosse di Draghi nei confronti di alcuni circuiti massonici progressisti con cui è stato in lotta, così come noi siamo stati in lotta con lui per decenni. Dopodiché ha, voglio dire, deluso le aspettative, sta continuando a deluderle, l'ultimo tempo si gioca adesso, cioè io posso soltanto augurarmi e ribadisco anche che io non ho mai fatto previsioni su cosa sarebbe stato, perché la previsione la puoi fare quando hai davanti soggetti o gruppi scarsamente in grado di utilizzare il libero arbitrio. Allora lì tu fai delle previsioni che siano di natura astrologica o questione di natura semplicemente politologica o geopolitica e anche magari di macro o micro economia. Quando hai dei fattori dove è difficile che i soggetti coinvolti scartino, che hanno un comportamento prevedibile, allora è tutto facile. Io non ho previsto che Draghi sarebbe stata la soluzione per i problemi dell'Italia e dell'Europa. Io ho auspicato, non ho nemmeno sperato, perché anche sperare oltre che credere non mi appartiene concettualmente. Io ho auspicato che fossero vere e credibili le sue intenzioni e vi dirò di più. Io sono sempre più convinto che le sue intenzioni erano buone, non sono le intenzioni che hanno difettato, è il metodo. Lui ha creduto di poter fare ancora oggi nel 2021-2022 di adoperare un metodo mellifluo, un metodo appunto cauto, un metodo grigio per poi infilare dentro, come in passato ha infilato cose ne fanno, infilarci dentro cose positive. Un tentativo poverino l'ha anche fatto di recente, ha detto una cosa utile per il sistema Italia e in generale per i popoli europei, cioè ha detto le spese gravi, grosse che dovremmo fare per la situazione dell'economia di guerra non le attribuiamo, non le facciamo con scostamento di bilancio nazionale o con prestiti appunto verso i singoli paesi, facciamoli con un bilancio europeo, che sia l'Europa a farsi scudo di questo. Bisognerà vedere poi se questo sarà approvato, si vede. L'intenzione c'è, lui ha toppato col metodo, cioè ha pensato di poter fare il furbo, ha pensato di poter dissimulare le sue vere posizioni. Se si fosse preoccupato meno, prima del curinale, dei neoristocratici e di far, diciamo, di strizzare un po' l'occhio a loro facendo credere di fare un doppio triplo gioco e se si fosse preoccupato di avere tutto il consenso dei massoni democratici e tutto il consenso di un ceto politico che avesse visto in lui il buon padre dialogico e non il despota democratico, ma lui oggi sarebbe al curinale e probabilmente non avrebbe sbagliato nemmeno in questo frangente di politica internazionale e era l'interlocutore più adatto a convincere Putin ad una pace onorevole, ad un buon compromesso, prima che la guerra cominciasse. Ecco, io su questo brevemente ho un'impressione per quanto riguarda Draghi un po' diversa, è un'impressione per carità, non metterei la mano sul fuoco, su quello che sto dincendo, ma io appunto credo che Draghi, sono propenso a credere anzi, che Draghi apposta non abbia voluto fare da un pacere, da un mediatore con Putin, perché Draghi ha capito fin dall'inizio che in questo momento con Putin non si poteva trattare, Putin voleva quello che sta dimostrando di non volere, quindi tutta l'Anacosta dell'Anna Mar Nero e rischiava, secondo lui, di rimanere bruciato in trattative inutili. La controprova potrebbe essere se quando Putin si renderà conto, o comunque gli ucraini, che non si potrà andare avanti con questa guerra, perché Putin ha ancora 15 giorni al massimo di autonomia logistica e gli ucraini capiranno che non potranno vincere questa guerra, semplicemente non la stanno perdendo con la velocità che avrebbero dovuto in teoria perderla, forse ritornerà in ballo. In quel momento forse aveva paura di bruciarsi. Per carità, è un'impressione. No, no, ma è utile, se tu avessi, offrissi anche ai nostri spettatori lo stesso mio punto di vista, sarebbero impoveriti. Questo è un altro modo interessante di vedere la questione, di interpretarla. Io credo che naturalmente ci sia una parte di verità in quello che tu dici e nell'eventualità che anche Draghi abbia pensato questo, ma posso dire che lo stesso Putin, mentre ha chiare le finalità, sui mezzi è più sfumato, cioè mentre con nessuno di coloro che hanno parlato con lui avrebbe fatto accordi, con Draghi, e non per caso l'ha sollecitato lui stesso, l'accordo l'avrebbe potuto fare. Forse è l'unico con cui, quindi l'eccezionalità sta in questo, che l'avrebbe potuto fare? Naturalmente c'era un modo anche per non bruciarsi, perché le condizioni che io ho detto che avrebbe dovuto porre Draghi comunque lo poneva in una posizione forte, ragguardevole, anche per un secondo tempo di trattative, insomma. Quindi ha fatto pure un errore. Però può darsi che ci sia stata quella considerazione. D'altra parte, io mi permetto di sentire da questa voce che sta circolando, per cui i russi hanno 10-15 giorni di autonomia logistica, dopodiché non sanno che fare. I russi hanno preparato la situazione in modo tale per cui, se non succede niente, arriveranno ad assediare, come dire, fin dentro le case i resistenti ucraini in questo primo giro. Poi dopo che si organizzi una guerriglia, dopo un altro discorso. Cioè, se non succede niente, se nessuno fa niente, se non interviene una no-fly zone a nome dell'ONU, a nome di una legione internazionale, a nome di una NATO che dichiari chiarissimamente che è una mossa difensiva per tutelare i civili e non una mossa offensiva nei confronti dei russi, i russi conquisteranno l'Ucraina e quindi poi, dopo cosa fatta, capo A cambia lo scenario. Se si vuol trattare con Putin in una condizione, diciamo, adeguata, bisogna fermarlo adesso. Ma Putin ha immaginato diverse simulazioni di questa storia. In una simulazione lui ottiene, otteneva, poniamo, tramite un interlocutore adeguato, autorevole, poteva ottenere anche un compromesso senza invadere l'Ucraina o limitandosi a occupare le repubbliche del Donbass. In questa circostanza, se le cose continuano così, invece la questione si pone in tutt'altro modo e non ci scordiamo che tutto questo va visto, va visto. L'incontro che c'è stato ieri tra, diciamo, Sullivan, il rappresentante cinese, che è stato commentato in modo becero da diversi soggetti dicendo, ah, non c'è, non è presente la Russia, questo è significativo. L'incontro era stato calendarizzato molto tempo prima che la guerra scoppiasse, quindi prima di parlare. Lo dico perché c'è qualche commentatore di quelli che vanno da Mentana, che faceva ieri chiose, dicendo, ah, però hanno tenuto fuori la Russia, ma qua è tenuta fuori. Quello è un incontro che era un incontro bilaterale programmato, dove oltretutto sono state ribadite cose che fanno vedere in modo sinistro come la questione di Taiwan, come noi abbiamo detto per tempo, si intreccia fortemente la questione ucraina e fanno vedere che la Cina chiaramente è uno degli azionisti di questa guerra. Come no? Anzi, più, diciamo, dimostra un atteggiamento preoccupato per l'equilibrio, i civili, eccetera, più sappiamo che dietro, come dire, la nuca di Putin soffia, soffiano le lingue biforcute, di chi da questa guerra in Cina e anche negli Stati Uniti e anche nei membri europei del partito cinese sovranazionale vedono un'opportunità, così come la vedono altri, ne abbiamo parlato, ne riparleremo. In questa circostanza, concludendo questa puntata di pane al pane, vorrei dire che fine ha fatto Draghi, perché, caro Mario, caro fratello Mario, farai qualche fatica a ritrovarti ovunque tu sia, diciamo, con il tuo animo, farei fatica a ritrovarti se continui a pensare in modo ordinario, cercando di ricalcare i tuoi passi del passato, no? Cioè, oggi i protagonisti della scena sovranazionale sono quelli che capiscono che è cambiato molto, che si stanno fondando nuovi paradigmi e nuove prospettive, o ci si abitua a scartare, ad avere creatività, fantasia, coraggio, oppure si viene, per così dire, rigettati nell'archivio della storia. Angela Merkel, e ne parleremo magari in una prossima volta, è nell'archivio, è nel cestino. Non è un caso. Con la Merkel la Germania non si sarebbe mai riarmata e con la Merkel, diciamo, Putin probabilmente non avrebbe invaso l'Ucraina. Voglio dire, spero che Draghi rifletta, perché appunto ormai ha poco margine di azione. Grazie Gioele, grazie per questa puntata che è stata un po' più lunga del solito, ma ne valeva la pena. Quindi alla prossima settimana con pane al pane. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao.